Si resta in attesa, sempre in tema di coronavirus, di eventuali disposizioni da parte del governo che possano decretare la chiusura di scuole e università, ma intanto all'Università della Calabria e il Rettore Nicola Leone a intervenire in termini di prevenzione. Sono tanti gli studenti che vengono anche dall'estero e tra loro anche alcuni cinesi. Gli ultimi sono arrivati a fine gennaio e sono stati in quarantena volontaria e non c'è stato alcun problema. Oggi il Senato accademico si riunirà per capire quelli che sono i provvedimenti da adottare, ma intanto lo stesso Rettore ha proposto di fare effettuare comunque le sedute di laurea senza pubblico con la possibilità di trasmettere le streaming. Nessuno stoppa gli esami, mentre un freno sarà posto alle missioni di studenti e docenti, soprattutto nelle zone a rischio. Così come bisognerà limitare anche le presenze esterne a congressi, seminari e conferenze. Rimandato chiaramente adatta a destinarsi il consueto Open Day, l'evento inizialmente previsto per oggi si svolgerà nel prossimo futuro.